Buongiorno ragazzi, bentornati alle nostre video lezioni di filosofia. Con Hegel concludiamo il programma di quarta, quindi arriviamo al grande autore tedesco dell'idealismo che porta ad estreme conseguenze alcune intuizioni di Kant, segnando la storia della filosofia in modo pesante. Molti, quasi tutti i filosofi che verranno dopo di lui si concentreranno su di lui per contrastarlo o per approvarne e adeguarne certe idee. Arriviamo alla fine di un percorso, vi ho messo un meme che mi è piaciuto moltissimo perché arriviamo alla fine di un percorso che è stato estremamente in salita. Questo meme è esplicativo del programma di filosofia che abbiamo affrontato quest'anno. Addio Cartesio ti ho capito, ora la filosofia sarà tutta in discesa, quindi una volta che si arriva a capire Cartesio si pensa di essere arrivati a capire tutto. Poi c'è Kant che è leggermente più grande di Cartesio e alla fine abbiamo Hegel che è un mostro a quattro braccia gigantesco. Questo è una metafora, i meme sono fantastici nello spiegare molto meglio di quanto farei io quello che ci aspetta. Quindi iniziamo ad affrontare Hegel e sappiamo che è il nostro mostro a quattro braccia di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Allora, Hegel nasce a Stoccarda nel 1770. Il punto centrale della filosofia di Hegel è che la realtà non è un insieme di sostanze autonome, come si credeva fino ad allora, ma un organismo unitario. Un organismo unitario che coincide con l'assoluto, in riferimento a Schelling, e con l'infinito. Quindi quest'idea che non ci siano le singole cose, ma tutto sia un insieme armonico chiamato assoluto, chiamato infinito. Vedremo poi in che modo. Il continuo divenire dello spirito, primo tema di Hegel. Allora, perché Hegel afferma che lo spirito è un continuo divenire? Allora, lui afferma che il finito non esiste. Esiste solo come espressione parziale, quello che noi osserviamo come finito, dell'infinito. Ed esiste solo in virtù di esso, cioè esiste solo in quanto espressione dell'infinito. Non esiste nulla al di fuori dell'infinito. Però questo infinito non è statico. Non è statico, è un continuo divenire, che produce e definisce se stesso. Quindi ritorniamo all'autocoscienza dell'io di Kant. In questo caso è diventato, passando attraverso l'idealismo romantico, in Hegel, un'idea che l'assoluto sia un divenire continuo di se stesso. In questo modo, continuando a divenire, si rivela per ciò che è, cioè spirito. Non dimentichiamoci di queste parole, perché ritornano, sono difficili da definire le parole che utilizza Hegel. Si possono concepire all'interno di un discorso. Quindi, questo soggetto spirituale infinito, che si rivela per essere spirito, viene chiamato da Hegel ragione o idea, da qui il termine idealismo. Intendendo che cosa? Un soggetto metafisico che ha una razionalità data da se stesso, cioè dall'insieme delle leggi che lo regolano. Quindi, l'assoluto divenire si manifesta come spirito e come soggetto infinito viene chiamato ragione, idea e autosussiste grazie all'insieme delle leggi, alla sua razionalità, perché stiamo parlando di razionalità. Per questa ragione il mondo è dominato da un ordine razionale superiore. Questo è quello che arriva a definire Hegel. Cioè, se il mondo è assoluto e quindi si presenta come spirito e ha nel soggetto razionale, che si autodefinisce con le sue leggi, per forza la realtà è governata da un ordine razionale superiore. Da qui la famosa frase di Hegel, la famosa affermazione di Hegel, ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razionale. Quindi tutto ciò che la ragione, che l'idea pensa è reale, e tutto ciò che è reale è reale perché è pensato dall'idea, esiste perché è manifestazione dello spirito. Quindi il compito della filosofia non è tanto andare a cercare chissà cosa, ma prendere atto della realtà come spirito razionale e spiegarla. La famosa nottola di Minerva, cioè lui afferma che la filosofia è come la nottola di Minerva che spuntava al crepuscolo e quindi quando oramai la realtà si era dispiegata e si stava riaddormentando. La filosofia arriva alla fine, quando le cose sono già successe, a spiegare quello che è successo. Verrà contrastato moltissimo in questa cosa, innanzitutto poi vedremo l'anno prossimo da Marx, che dirà invece no, la filosofia deve cambiare le cose, non può solo prendere atto, no? Se no si finisce come Hegel, per il quale lo stato prussiano era il manifestarsi massimo dello spirito, quindi un qualcosa che era assolutamente razionale, quindi intoccabile. Quindi l'assoluto come fa a essere continuamente in divenire? Hegel afferma che attraversa tre momenti dialettici, no? La dialettica che avevamo visto l'anno scorso con Platone viene rivisitata da Hegel. C'è un momento astratto, che è il primo momento che Hegel chiama tesi, il momento della tesi, è l'affermazione di un concetto astratto e limitato. Il momento dialettico, quello in cui si pone un negativo razionale, quindi non più l'affermazione ma una antitesi, quindi un momento negativo, che è la negazione dello stesso concetto, e il divenire fa sì che si arrivi al terzo momento, che è la sintesi, che è un positivo razionale come unificazione delle due fasi precedenti. Una unificazione che per Hegel non è il, come dire, che uno dei due vince, è proprio un'unificazione, viene potenziato il momento assoluto grazie alla tesi e all'antitesi, perché è una riaffermazione dell'affermazione iniziale, però potenziata, no? È un vero e proprio superamento, l'aufhebung di Hegel. Quindi, difficile da spiegare, perché ho feo puntata una parola che è difficile da tradurre in italiano, vuol dire superamento, ma è un superamento in cui si toglie e si conserva allo stesso tempo, quindi è un momento di dialettica in cui si toglie e si afferma, si tiene qualcosa allo stesso tempo. Quindi tesi, antitesi e sintesi. Ma procediamo oltre, perché siamo solo all'inizio. Quindi, tutto questo, questi passaggi, tesi, antitesi e sintesi, hanno tre momenti specifici, che non sono momenti cronologici, ma esattamente come in Fichte, sono momenti assolutamente logici, quindi contemporanei. C'è il momento dell'idea in sé e per sé, quindi il momento della tesi, cioè l'idea nella sua massima purezza. C'è il momento dell'idea fuori di sé, quando quindi l'idea si accorge che esiste qualcosa al di fuori di lei, l'antitesi, e quindi è il momento in cui l'idea si accorge che la natura è materiale, e il momento in cui l'idea ritorna in sé, quello della sintesi. Si identifica con il momento più importante, quindi Dio, natura e spirito, perché lo spirito torna allo stadio iniziale, cioè l'idea che la tesi che lui aveva è pura, perfetta, ma gonfio pure della concretezza della natura. Cioè, venendo l'idea, venendo a contatto con la natura, si gonfia di concretezza. A queste fasi corrispondono tre diversi settori della filosofia, quindi c'è il settore della logica che studia l'idea in sé e per sé, l'idea pura, la dottrina dell'essere, la dottrina dell'essenza, la dottrina del concetto, dice Hegel. Poi c'è la filosofia della natura che corrisponde al secondo momento, quindi quando l'idea si specchia in qualcosa di reale, che propone dei settori della filosofia che sono la meccanica, la fisica e la fisica organica, per Hegel tutto è filosofia, e l'ultima è la filosofia dello spirito, quindi quella a cui aspira il filosofo, lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, lo spirito assoluto, nel momento in cui l'idea concretizzata diventa finalmente spirito che informa la realtà. Hegel, quindi, risolve la relazione tra finito e infinito, quindi tra idea e natura, attraverso due processi paralleli, che ricordano anch'essi, benché Hegel critichi tantissimo Platone, i due momenti della dialettica platonica, quindi un momento dall'universale al particolare, e un momento dal particolare all'universale. In questo caso, anche qui abbiamo una via all'insù, che parte dalla coscienza individuale dell'uomo, e arriva all'assoluto, quindi partendo dall'autocoscienza di sé che c'è nell'uomo, si arriva a definire l'idea come assoluto. Questa cosa è presente nell'opera, o almeno in una delle opere sicuramente più importanti e famose di Hegel, che è la fenomenologia dello spirito, quindi la via all'insù dal particolare all'universale, direbbe Platone, ma non è la stessa cosa per Hegel, è l'idea dal singolare individuale umano, che capisce che c'è qualcosa, che lui rappresenta qualcosa, che poi è più grande di lui, è lo spirito dell'assoluto. E c'è la via all'ingiù, che parte dall'assoluto invece, attraverso vari stadi dialettici, quelle dello sviluppo logico dell'idea, che scende fino ad arrivare al momento soggettivo dell'individuo, quindi arriva allo spirito soggettivo. Quindi questa via all'insù e via all'ingiù sono in realtà circolari, perché si iniziano dove uno dei due si conclude, quindi rappresentano sostanzialmente la stessa cosa, in un modo circolare, nel continuo divenire dello spirito. La fenomenologia dello spirito invece è il tentativo da parte di Hegel, quindi di spiegare le tappe del manifestarsi dello sviluppo razionale, il manifestarsi dello spirito. Ci sono delle tappe che lui definisce in questo modo. La prima tappa si assomiglia molto ovviamente a quello che abbiamo già detto, però questo in particolare è nella fenomenologia dello spirito, cioè nella via all'insù. La prima fase è quella della coscienza, quindi la coscienza dell'individuo incontra l'oggetto. Innanzitutto il primo momento è quello della certezza sensibile, attraverso i sensi l'individuo è certo che l'oggetto esista e questa certezza lo mette in crisi, perché il reale è complesso. Lui dice che lo spirito individuale non basta, il reale è complesso, appena entriamo in contatto, appena la nostra coscienza entra in contatto con la realtà, entra in crisi. La prima cosa che facciamo è ricondurre attraverso la percezione la molteplicità delle dati sensibili che ci arrivano le riduciamo a categorie. E qui ricordiamo Kant. È infruttuoso perché il mondo non è statico, cioè noi proviamo a categorizzare, ma il mondo è in divenire, quindi le nostre categorie immediatamente non corrispondono alla percezione che abbiamo. La terza fase è l'intelletto della prima fase, diciamo, il terzo momento della prima fase, anzi, la terza fase del primo momento in realtà. L'intelletto, l'individuo, si convince quindi che l'unità che verrà data alla realtà non è nell'oggetto che è troppo molteplice, l'unità è nel soggetto che diviene autocoscienza. Anche qui, insomma, i rimandi a Kant sono evidenti. Però, a questo punto, c'è il momento dell'autocoscienza, quindi la coscienza è diventata autocoscienza, quindi il momento dell'antitesi. Il soggetto si analizza, si autoanalizza. Quindi l'individuo cosa fa? Pone la sua esistenza in relazione con quella degli altri individui. Le altre autocoscienze entrano in contatto con quella dell'individuo in modo conflittuale. E l'unica cosa che succede è che tutto si risolva in un rapporto di subordinazione, la famosa fase servo-padrone, che vedremo, abbiamo visto in classe, adesso nel nostro sintesi non possiamo sviluppare. Ma non è un rapporto statico, lo sappiamo, conosciamo la fase servo-padrone, perché sappiamo che il servo prende il posto del padrone, ma non perfettamente, ma sempre in una fase di accoglimento e rifiuto. Ma i ruoli appunto non vengono cancellati, ma riassorbiti, riprendiamo l'aufembung, il mettere e togliere, l'aufembung, mettere e togliere di prima. E questo processo, che porta l'aufembung, ha tre passaggi, la paura della morte, il servizio e l'indipendenza. Sono le tre fasi del rapporto servo-padrone. Quindi, una volta che l'autocoscienza si è così strutturata, interviene la ragione, cioè il fatto che si ha bisogno di un'unità fra soggetto e oggetto. Quindi l'individuo come autocoscienza si rende conto che può assumere in sé tutta la realtà. L'autocoscienza sopporta la realtà perché non può fare diversamente, ma nasce una pretesa nell'autocoscienza, la pretesa di comprendere l'assoluto. Poi questa cosa tornerà, o comunque ha anche un riferimento, cioè noi, quando noi prendiamo autocoscienza di noi, in rapporto con gli altri, ci rendiamo conto che non ci bastano i rapporti con gli altri. Abbiamo bisogno di un assoluto, senza andare nell'idealismo kantiano, ma nella vita quotidiana sicuramente è presente questa cosa. A questo punto, Kant, sì Kant, Hegel afferma che noi utilizziamo due tipi di ragione. La ragione osservativa, tentiamo di raggiungere l'assoluto con l'attività scientifica. Ma siccome l'assoluto non è un dato sperimentabile, osservabile, non ci arriviamo mai, perché è un dato da conquistare. La ragione attiva anche lei tenta uno sforzo individuale, la ragione pura, direbbe Kant, ma anche esso è destinato a fallire, non arriverà mai all'assoluto. E quindi, la terza fase della ragione è quella dell'individualità. Cosa vuol dire individualità? Vuol dire che l'individualità è, riprendiamo le parole che abbiamo scritto, l'individualità è a se stessa reale, in se stessa e per se stessa. Se riesco a trovare il pallino? Ok. Quindi, l'individualità si rende conto di una cosa. fondamentalmente si rende conto che non può arrivare all'assoluto perché è astratta e inadeguata ad arrivare all'assoluto. Per cui, la conclusione della fenomenologia dello spirito è la conclusione che poi viene molto criticata di Hegel, cioè quella per il quale la razionalità è adeguare, cioè rendersi conto che l'unica cosa razionale è la struttura oggettiva e sociale della storia. Ok? Quindi Hegel riduce l'individualità a un flusso storico, sociale, nel quale lo spirito si manifesta. Lui parlerà di Napoleone, ad esempio, capisce questa cosa vedendo Napoleone arrivare a cavallo e capisce che quello è lo spirito, quello è l'assoluto della storia, non l'individuo. L'individuo deve rendersi conto che quello è l'assoluto e ovviamente dopo Hegel lo Stato prussiano prenderà in sé, in carico, questo essere un assoluto della storia e non vorrei spingermi troppo in là ma lo stesso nazismo. Per certi versi prende da Hegel quest'idea di una struttura oggettiva sociale che è lo Stato, lo Stato prussiano prima, lo Stato nazionalsocialista poi, come qualcosa di più grande dell'individuo. Ok? Spero che sia chiaro questo passaggio anche se ho dei dubbi. La logica di Hegel abbiamo detto che invece compie il passaggio al contrario, con il passaggio all'ingiù, cioè vuole descrivere partendo dall'idea l'impalcatura originaria del mondo. Quindi, i concetti cosa sono? Non sono nient'altro che la realtà. Cioè, siamo nell'idealismo, quindi il concetto logico è la realtà. anche qui usa uno schema triadico nella logica, parte dalla dottrina dell'essere, quindi abbiamo il concetto più astratto, privo di contenuti, indeterminato, esso assolutamente nulla, nel senso che è il concetto più povero in assoluto. Quindi, se noi mettiamo in opposizione un'antitesi, la cosa che si oppone al concetto assoluto più povero è l'essere determinato. A questo punto la seconda fase del ragionamento della logica di Hegel, cerco di farvela molto sintetica, ci interessava di più la filosofia dello spirito dal punto di vista anche storico, storico-filosofico. Quindi, allo stesso modo, l'essere a questo punto trova scopre di essere in relazione con qualcosa, si riconosce essere identico e diverso allo stesso tempo, identico a se stesso e diverso da ciò che è determinato e quindi comprende lì la sua ragione di essere. Per cui, l'ultima fase, quella della dottrina del concetto, l'essere a questo punto scopre che la sua ragione di essere è proprio entrare nel soggetto, quindi entrare nello spirito, divenire soggetto della storia. Il concetto è il pensiero che produce i suoi contenuti, quindi il concetto è qualcosa che, cioè è il pensiero, lo dice la frase, che produce i suoi contenuti, quindi non è più un superamento del precedente livello, ma uno sviluppo costruttivo, l'idea costruisce la realtà, l'essere che inizialmente è nulla, è indeterminato e astratto, quando si scopre in relazione con qualcosa, inizia a produrre contenuti e quindi produce la realtà. Vedete come l'idealismo è proprio l'apice di Kant, cioè il considerare l'idea colei che crea la realtà e lo spirito colui